Leonardo Silva Revisore Io sono un architetto, da qualche anno faccio l'architettura in un modo diverso. Lavoro con le pubbliche amministrazioni, con i gruppi informali, con le organizzazioni, con chi deve decidere, e decide di cedere potere di decisione alle persone per sbagliare meno. Perché oggi le politiche sono complicate, quindi occorre coinvolgere le persone che sono beneficiari delle politiche. E allora ho fatto, del mio lavoro, un'operazione di ascolto, perché l'ascolto è il senso. Lavoro con degli strumenti molto semplici, quasi da scuola, i pennarelli, i fogli, i fogli mobili. E questi fogli raccolgono i pensieri delle persone, spesso li manipoliamo insieme al gruppo, per costruire tanti pezzetti di terra, che sono in qualche modo il senso di quell'incontro. Ma se la terra è fatta tutta a pezzetti, il cielo è uno solo. E allora l'idea è costruire questa specie di ascesa dalla terra al cielo, come pioggia che cade dalla terra al cielo, e creare delle macchine, delle infografiche, che raccolgano i contributi di tutti. E quindi con nuovi strumenti digitali, poi si riportano quelle esperienze dentro un panorama condiviso. Certe volte questi panorami sono interi libri, intere norme, interi discorsi lineari, complessi, che si devono portare alle persone perché le persone li possano elaborare. E allora in quel caso uso una piccola strategia, ricordare che pagina, paese e paesaggio hanno la stessa etimologia, sono il pagus, sono il luogo in cui troviamo il senso e confiniamo la nostra storia, la rappresentiamo. E allora interi libri vengono trasformati in immagini che possono essere in qualche modo, possono orientare su grande formato le persone. Però queste sono interpretazioni che non si possono fare in tempo reale, bisogna elaborarle, quasi un'operazione da camera. Certe volte tu i discorsi non li sai, avvengono improvvisamente in un luogo comune in cui si decide e ci si ascolta. E prima di decidere il passaggio verso il cielo è fondamentale. E allora il paesaggio che raccoglie questo passaggio verso il cielo deve essere una fusione favorevole. E ho inventato questa storia del muro nomade immaginando una cosa molto semplice, una superficie quasi non finita, un rotolo di carta, per fare un'operazione molto semplice, una specie di cantastoria al contrario. Io non conosco mai le storie che avvengono. Sono le persone che me le raccontano, le ascolto e scrivo, come fatto fluido e raccolgo come una visione favorevole il loro discorso. Questa cosa l'ho fatta per un po' di tempo. Una di quelle volte sono arrivato in un posto assolutamente straordinario, che è il Museo della Mente all'ex manicomio Santa Maria della Pietà a Roma. c'è un padiglione che è stato trasformato, configurato come un luogo della memoria, un luogo del dolore, ma anche delle capacità mentali delle persone da Studio Azzurro. E lì c'era un workshop che parlava di innovazione. Quindi lì ho scritto quello che le persone dicevano. Poi dopo ho visitato lo spazio del museo e ho trovato questa cosa qua. È una riproduzione su plexiglass molto lunga di un graffito, di un pezzo molto piccolo di un graffito di Noff. Fernando Restenannetti era un uomo che era stato rinchiuso per oltraggio a pubblico ufficiale nel manicomio di Volterra. E là c'è rimasto per anni e ha graffitato le sue storie immaginarie, i suoi pensieri, i suoi paesaggi mentali, sul muro del reparto. Immaginate un muro di 180 metri di lunghezza, alto 2, che è stato scavato dalla sua fibbia. E lui si definiva un astronautico ingegnere minerario. del sistema mentale. E quando ho visto quella cosa sono rimasto fulminato, perché ho capito che i muri che stavo facendo sono nomadi, perché hanno bisogno di portare la libertà delle persone, la libertà dei discorsi, dentro un paesaggio comune, in giro per il mondo, come se fosse uno scavo, come se per andare verso il cielo, voi dovete scavare giù nella terra e in fondo ritrovare la luce al di là degli antipodi. E questa storia qua, quella sera, si è trasformata in una specie di museo mentale condiviso, perché, guarda caso, abbiamo usato molti colori diversi, perché le voci avevano colori diversi. Bene, questa storia è continuata e la porto ancora insieme. l'ho fatto una piccola sperimentazione per voi, ma la cosa più interessante è che è un flusso. È quasi una tempesta, un flusso consapevole, e ha a che fare con una cosa che, mentre accade, parla di una parola che non è traducibile né in italiano né in inglese, ma è molto nuovo dai pugliesi, che si chiama pricio. Il pricio è la felicità di fare una cosa. Non c'è nessun motivo per cui la fai se non quello di farla. E quando la fai sei contento come la notte di Natale e soprattutto è quando le altre persone che ti vedono, che sei presa da questa cosa, si priciano. E questa cosa qua, io l'ho ricollegata all'infanzia, perché quando ero piccolino giocavo con mio cugino, io sono come lui, non ho fratelli, non ho sorelle, e lui quando si impriciava faceva così. Faceva questa cosa qua, che non so se reggono i microfoni, ma è sostanzialmente la felicità di entrare dentro questa tempesta, questa consapevolezza in cui avviene un passaggio di stato. Sono le nuvole che si annodano insieme e che creano senso ai nostri discorsi. Quindi l'ascolto è il consolidamento di queste parole e il consolidamento anche della felicità, perché le persone sono la felicità, sono il senso della felicità quando hanno accanto persone significative. E questo è un aggregato di discorsi significativi dove tu catturi le nuvole, gli dà un senso, perché con i colori puoi tradurre dai toni dei discorsi la priorità di alcune parole rispetto ad un'altra, ma un caos, un magma in cui tu accetti di entrarci dentro. E tu crei delle immagini che sono la persona creale, io le seguo soltanto, non ho nessuna responsabilità, nessun merito in questo, ma tutto diventa una foresta pluviale. E lì sopra, vedete, prima un discorso fatto da più relatori in una sala, su un museo sensibile, poi è iniziata la tempesta, è iniziato un brainstorming che ha cominciato a piovere. Vedete, gli spazi di sotto sono le parole che piovono, è un po' l'idea di Calvino che la felicità e la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E questo spazio cazzico è così. Sono i discorsi, non hanno più il nome delle persone, hanno il senso della fusione di tutti i punti di vista. Perché spesso le persone, quando parlano, non hanno soltanto interesse a raccontare un'idea, un concetto. Sono interessati, sostanzialmente, a definirle nei dettagli di quel discorso. E allora io provo a fare delle polaroid dei discorsi per raccontare tutto questo, così come loro immaginano che sia possibile raccontare. e costruisco queste sole pagine fuori scala, molto grandi, dove tu puoi navigare, non trovi il tuo nome, ma alla fine diventa una specie di quarta parete comune fra le persone, e te che scrivi, e fra le persone che parlano si crea questa membrana in cui tutti i discorsi poi sono luoghi di esplorazione. Possono diventare tavoli, tavoli nomadi che vanno dappertutto e diventa una specie di villaggio artigiano dove tutti cominciano a scrivere e apprendere dappertutto perché solo dilagando tu trovi il senso e l'apprendimento è ovunque, in ogni parte dei discorsi. E diventa una tela, spesso si srotola a terra questa storia perché le persone che narrano poi cominciano a leggersi. Ed è questa pratica che è più interessante. Spesso questi luoghi di scrittura raccolgono punti di vista molto diversi fra di loro anche molto in conflitto. Però accade che dopo, alla fine, quando finisce un discorso ognuno va a cercare la sua parte, il suo pezzo di discorso per vedere cosa avrò detto, che cosa è stato esattamente riportato. In quel momento legge anche gli altri e si legge dentro gli altri. Queste mappe in qualche modo diventano un modo per ricucire il nostro rapporto con le persone che ci stanno accanto e per diventare insieme una specie di comunità di autori nomadi che accettano di camminare. Perché, in fondo, la bellezza non esiste se le persone non ci camminano dentro. E la bellezza non è fatta, come dire, di immagini perfette, ma di avventure umane, da piedi scalzi, per cui tu cammini e solchimari dove la scrittura può essere una rappresentazione delle persone, che sono quasi specchi d'acqua. Alcuni di noi sono superfici, ma alcuni di noi nei discorsi trovano la profondità dell'ascolto e dei luoghi delle persone. Purché noi ci ricordiamo sempre una cosa, che non è fondamentale la forma della scrittura, ma sono fondamentali le persone che le hanno generate. E per cui il senso è, purché tu sappia che la superficie del mare non è il mare. è una bellissima poesia di Silvano Agosti, che lui ha scritto immaginando probabilmente quella chiesia che tutti noi vorremmo arrivare. Io di là un po' ho provato a raccontare delle nuvole. Qua ce n'è una, un pezzetto di nuvola che sta cominciando a vagare verso di voi, ma è solo un frammento, perché il bello della storia deve ancora venire. Grazie. Applausi 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 Applausi